ciao a tutti e ben ritrovati nell'angolo verde di angela oggi facciamo la quinta parte della serie dalla vite al vino precisamente noi passeremo alla legatura della vite e dopo di che metteremo lo zolfo per evitare che durante le mattine in cui ci possa essere umidità si possano creare dei danni alle scime della vite ma detto questo passiamo all'opera quindi come vi ho detto la prima cosa che noi facciamo è la legatura della vite a 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